buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa oggi è mercoledì primo febbraio 2023 iniziamo il secondo mese dell'anno ci sono diverse notizie importanti oggi sui giornali si parla diffusamente di carnevale ma si parla anche di sport e ovviamente non mancano le notizie di cronaca ne parleremo dopo dopo aver dato un'occhiata all'almanacco del giorno e oggi vediamo che si festeggia santa brigida d'irlanda siamo nel quinto secolo in irlanda il suo culto è inferiore solo quello di san patrizio santa brigida fu badessa del monastero di childer e le si attribuiscono molti miracoli come quello di aver stillato in un solo barile pensate birra sufficiente per 18 chiese in quantità tale che bastò dal giovedì prima di pasqua fino alla fine del periodo del tempo pasqua insomma uno dei tanti miracoli che si che si attribuiscono a santa brigida le previsioni del tempo le previsioni del tempo il tempo si mantiene sereno ma freddo oggi su tutta la regione una giornata stabile vediamo il sole che appare da nord a sud giornata stabile e ampiamente solleggiata su tutto il territorio regionale locali gelate al mattino specie in appennino la ventilazione è debole sulle coste il vento spirerà da una direzione di ovest sud ovest così come nell'entroterra e le temperature si aggireranno dai 3 ai 10 gradi quindi una lieve escursione termica come da un po di tempo a questa parte comunque le temperature minime sono piuttosto fredde siamo in pieno inverno ed ora apriamo il giornale il corriere adriatico questa mattina sulla pagina di fano vediamo che si parla di carnevale si parla di carnevale secondo un aspetto particolare quello della sicurezza ebbene nei corso mascherato nei corsi mascherati che si svolgeranno da domenica prossima 5 febbraio e poi il 12 e poi il 19 ci sarà tantissima gente in viale gramsci dove sfileranno i grandi carri allegorici ebbene c'è tanta confusione ma ci deve essere il massimo della sicurezza e per questo l'apparato organizzativo si sta predisponendo ad un intervento veramente efficace già quello collaudato in passato è stato ritenuto molto efficace da parte della prefettura proprio ieri mattina si è svolta una riunione in prefettura con il nuovo prefetto Emanuela Saveria Greco e il questore Raffaele Clemente sono state date le ultime disposizioni ovviamente c'è un limite di capienza per tutto il territorio fissato in 14.425 spettatori non uno di più non uno di meno e tutti verranno conteggiati agli ingressi del corso mascherato ci sarà un grande apparato di sicurezza circa 200 tra vigilantes della protezione civile e professionisti che vigileranno appunto per mantenere il massimo ordine all'interno del percorso e ci saranno anche tantissime telecamere che potranno focalizzare anche singoli episodi quindi sono molto attente e molto proficue per quanto riguarda sia la prevenzione che la repressione di episodi che potrebbero nascere e speriamo che non nascono ebbene tutto questo di tutto questo si parla in questo articolo pubblicato oggi dal Corriere Adriatico Carnevale sicurezza ancora più rigida 200 operatori e telecamere ovunque riunione in prefettura confermato il limite di 14.425 presenze gli oneri per lente salgono a 90.000 euro pensate quanto costa la sicurezza dopo che le norme sono diventate più rigide in seguito ai fatti accaduti a Torino in piazza San Carlo il 3 giugno del 2017 cosa che non dovrebbero mai dovrebbero più accadere e vediamo che al Carnevale di Fano sono coinvolte anche molte molte scuole il Carnevale è una festa dedicata soprattutto ai bambini ovviamente non solo ai bambini dedicata la sfilata mattutina delle tre domeniche dalle 10 in poi corsi mascherati anche per i bambini piccoli carri grandi mascherate che poi confluiranno in piazza 20 settembre le scuole ce ne sono tantissime sono scuole primarie protagoniste le scuole anche dell'infanzia ma soprattutto quelle elementari che hanno predisposto delle mascherate molto molto significative dal punto di vista dei contenuti ambientali sociali eccetera per esempio gli studenti del liceo Nolfi e qui siamo alle superiori realizzeranno una mascherata per le sfilate della domenica pomeriggio con i docenti referenti e grazie al progetto alternanza scuola lavoro diversi ragazzi avranno l'opportunità di lavorare alle mascherate con le associazioni e le fazioni altri saranno di supporto in ufficio e nelle mostre dedicate al Carnevale quindi anche molto molto volontariato da parte dei ragazzi questo per quanto riguarda il Carnevale ora giriamo pagina e vediamo che il Corriere si occupa delle terme da alcuni giorni la presidente del comitato che sensibilizza la realizzazione delle nuove terme Beatrice Morbidoni si lamentava perché non si sapeva più nulla del progetto che è stato presentato alla fine dello scorso anno da Maurizio Natali che è l'avvocato che rappresenta la società che farà questo grande investimento ebbene ieri l'avvocato Maurizio Natali ha risposto e dice investiamo su terme clinica privata ma quei 50 posti restino a Fano ebbene le terme si faranno anche se la Regione non attribuirà la convenzione a quei 50 posti di ortopedia che sono previsti nella clinica privata che verrà realizzata a Carignano è importante dice che almeno quei 50 posti vengono attribuiti a Santa Croce perché si costituisca una sinergia tra l'ospedale e le terme insomma terme che privilegiano l'apparato ortopedico e quindi insomma potrebbero avvantaggiarsi anche con le cure termali per quanto riguarda quelle che vengono praticate all'interno dell'ospedale Santa Croce Natali conferma il progetto di Carignano per ortopedia auspicata una sinergia con il Santa Croce è appunto il sottotitolo e poi si parla di una vicenda giudiziaria di un fatto che risale ad alcuni anni fa nel 2016 esattamente al 4 luglio 2016 in quel giorno accadde un drammatico incidente sul lavoro un operaio che stava lavorando in cima ad una gru cadde di sotto e poi retto morì appena imbatté nel suolo fu una disgrazia veramente terribile il fatto avvenne nei pressi della Basilica di San Paterniano volo mortale dalla gru il PM chiede più di 12 anni agli imputati che sono stati dichiarati colpevoli per questa probabilmente per negligenza o per altro a causa di questo incidente un volo di 20 metri cadendo dalla gru di un cantiere in via Polloni era morto così Gianni Ambrosini 44 anni, operaio di Monte Felcino ieri le richieste di condanna per oltre 12 anni e mezzo per gli imputati a processo poi ci sono qui tutti i nomi delle persone che devono rispondere appunto di quanto è avvenuto al processo dicevo si è arrivati dopo vari incidenti probatori in udienza preliminare e soprattutto con le risultanze di una corposa perizia richiesta dal giudice nella quale si era messo in luce che a causare l'incidente era stata la rottura della barra del parapetto che non era stata così degradata dall'usura bensì dal fatto che si era rotta e invece di essere aggiustata saldandola ebbene era stata semplicemente incastrata è stata una mossa così imprudente da parte della vittima di questo incidente che è caduto di sotto insomma quella barra avrebbe dovuto resistere invece non l'ha fatto ecco perché gli imputati sono stati considerati colpevoli ed ora parliamo di volontariato parliamo di volontariato perché c'è in atto in questo momento un appello per l'assunzione di molti volontari che vogliono dedicarsi al servizio civile è un esempio importante quello che viene dimostrato da Giorgia Olivi una ragazza che in questo momento si trova in Africa esattamente in Tanzania il mio sogno era l'Africa dice Giorgia Olivi vivo da due mesi da volontaria ha 23 anni ed è impegnata in Tanzania nel centro di Iringa dell'Onlus Fanese l'Africa chiama sin da piccola il suo sogno era appunto andare in questa terra sconosciuta, lontana e così diversa dall'Italia ora l'impegno che sta dimostrando questa ragazza le dà tante soddisfazioni dal punto di vista morale, etico, psicologico è un lavoro impegnativo ovviamente, faticoso ma c'è tanto tanto da guadagnare dal punto di vista appunto della soddisfazione personale agisco come se quello che faccio facesse la differenza voglio tornare ancora qui in futuro dice Giorgia Olivi l'Africa chiama al momento ha a disposizione 10 posti tre in Zambia e Italia due in Kenya e Tanzania nell'ambito del bando per il servizio civile universale rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni c'è tempo fino alle ore 14 del 10 febbraio per dare la propria adesione e i riferimenti sono pubblicati appunto sul giornale ed ora passiamo a Fossombrone c'è una dichiarazione del vice sindaco Chiarabilli abbiamo sbloccato la macchina comunale per quanto riguarda le case popolari c'erano tante stanze che non venivano soddisfatte da parte di coloro che avevano bisogno di una nuova residenza abitativa ed ora il comune finalmente ha risposto ad alcune di esse e questo ha determinato la soddisfazione del vice sindaco Michele Chiarabilli in particolare nella veste di assessore ai lavori pubblici e avere risolto il problema delle case popolari di proprietà comunale ha dichiarato una decina su un totale di 39 che abbiamo consegnato a persone che non stanno benissimo dal punto di vista socio-economico ha dato una grande soddisfazione soprattutto ha risposto una volta tanto convenientemente alle istanze di queste persone fragili passiamo alla Val Cesano e passiamo a Montepozio dove si succedono gli avvestamenti dei lupi questa volta sono stati sorpresi due bellissimi esemplari correre al lato della strada lungo la Pergolese tre lupi corrono in strada nell'abitato di Castelvecchio filmati da un'auto in transito il funzionario del CRAS Angelo Giuliani che è il direttore del Centro Recupero Animali Selvatici dice attenzione ai facili allarmismi e vediamo un attimo lupi a Castelvecchio da ieri sta facendo veramente il giro sui social le immagini scattate da alcune persone che transitavano sulla strada e si sono accorti che a lato correvano a grande velocità alcuni lupi ovviamente non davano alcun interesse non davano alcuna attenzione alle auto in transito ma correvano per i fatti loro cercando di risalire l'entroterra andare insomma nelle zone più disabitate ebbene Angelo Giuliani dice non abbiate paura perché questi lupi non attaccano i bambini non attaccano le persone basta tenere gli animali da affezione al coperto in modo particolare di notte sono quelle le cose a cui insomma i lupi magari possono destare un po' di pericolo non mangiano i bambini e per favore cerchiamo di tenere a freno le paure dice Giuliani non vanno lasciati fuori di notte così come i cani non vanno tenuti fuori di casa al guinzaglio caccia di selezione punto interrogativo lasciamo perdere è una soluzione impraticabile ha detto il tecnico riaprite l'ospedale di Sasso Corvaro o chiediamo di andare in Romagna le richieste finora rimaste inascoltate del comitato locale di Sasso Corvaro che torna ad agitare i venti della secessione bene sono ormai diversi comuni che sono andati o che vogliono andare in Romagna perché nella nostra regione non trovano l'assistenza necessaria per condurre una vita dignitosa e passiamo a Senigallia una buona notizia tornano a casa le prime 12 famiglie che sono state così portate via dalla propria abitazione per l'alluvione sono state sgomberate appunto a causa dei disastri dei mesi scorsi altre 24 sono ancora in albergo ieri il sopralluogo per la passerella che dovrà essere resa accessibile al pubblico a valle del ponte Garibaldi finalmente a casa le prime 12 famiglie delle 322 sgomberate nei mesi scorsi sono un piccolo nucleo ma questo dà speranza perché anche altre nei prossimi giorni seguono ieri intanto c'è stato il sopralluogo del comune insieme al consorzio di bonifica per programmare l'allestimento della passerella pedonale che verrà collocata a valle dell'attuale ponte Garibaldi per consentire di attraversare il Misa in quel tratto almeno a piedi c'è ancora Senigallia molto da fare per riparare i danni causati da quel drammatico evento va al lavoro e trova l'auto sfregiata filmata la teppista con il punter wall ebbene voleva fare deliberatamente dei danni all'auto di una rivale un'amica non si sa per quale ragione lo abbia fatto solo che invece di fare tutto con il nascosto è stata sorpresa dalle telecamere così è stata identificata una donna che ha compiuto questi danni la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno ripreso uno dei raid denuncia per una quarantenne e quando si è avvicinata all'utilitaria appunto della sua vittima mai avrebbe immaginato che la sua azione sarebbe stata ripresa invece così è stato e quindi questo danno verrà riparato riparato giudizialmente giudizialmente infatti è stata denunciata vediamo qualche notizia che riguarda la regione Marche e si parla di scuola si parla di scuola perché le iscrizioni sono ormai terminate e vediamo quali sono state le preferenze degli alunni ebbene per quanto riguarda le scuole superiori la maggior parte degli alunni ha privilegiato i licei in modo particolare il liceo scientifico i licei nella grande massa delle iscrizioni hanno ottenuto il 56,7% delle preferenze in modo particolare il liceo scientifico il 13,5% seguito dal scientifico scienze applicate il 9,4% e poi il liceo linguistico 8,5% e poi ancora vediamo il liceo artistico 5,8% il classico 5,3% e poi via via tutti gli altri ma c'è anche in buona posizione scienze umane l'ex pedagogico che ha ottenuto il 7,3% insomma i licei sono le scuole che vengono privilegiate dagli studenti di tutte le marche l'indirizzo tecnico invece ha ottenuto un 30,3% ed ha prevalso soprattutto il settore tecnologico con il 19,9% quello economico invece che comprende amministrazione finanza marketing e turismo il 10,3% e poi abbiamo gli indirizzi professionali con il 13% totali in questo caso ha prevalso il settore alberghiero quello dedicato alla enogastronomia e alla ospitalità con il 4,5% comunque ci sono diversi indirizzi che potranno dare e soddisfare tutte le attitudini e tutte le opportunità che i ragazzi intendono sviluppare per poi procurarsi un posto di lavoro pluriclasse e carenza di medici crisi dei servizi dell'entroterra ok il consiglio alla legge che incentiva il personale sanitario a lavorare nel cratere il cratere che è la zona più sensibile per quanto riguarda la nostra regione e veniamo ora a Pesaro in modo particolare dove si parla ancora di alberghi negli hotel si dice addio alla pensione completa e i clienti privilegiano il bed and breakfast per suprire alle carenze dei lavoratori stagionali ci sono strutture che cambiano letteralmente target Gasparini del Clipper dichiara proviamo con la sola colazione allungandola come un brunch e qua abbiamo anche delle dichiarazioni degli stessi operatori Paolo Costantini in rappresentanza dell'APA che è l'associazione appunto albergatori Paolo Campagnoli dell'hotel Mare Nanni Marcucci Pinoli dell'hotel Alexander e Agnese Trufelli vice direttore della Confcommercio la Confcommercio riproporrà il Talent Day insieme al Santa Marta Santa Marta che è l'alberghiero di Pesaro ed ora giriamo ancora la pagina e vediamo come il comune di Pesaro deve riscuotere ancora diversi soldini dai contribuenti morosi e quanto l'ASPE si aspetta di recuperare stata di 1 milione e 600 mila euro per il bienio 2014-2015 dopo essere subentrata a Equitalia ebbene sappiamo però che il governo ha decretato uno stralcio dei tributi pendenti fino a 1000 euro ecco i dati per il comune di Pesaro il comune di Pesaro che comunque non ha aderito a questa opportunità predisposta dal governo stesso ecco i dati per il comune di Pesaro il governo Meloni ha stabilito con la legge di bilancio che i debiti tributari di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'agenzia di riscossione delle tasse saranno automaticamente annullati e i comuni avevano tempo fino a ieri per decidere se aderire o meno per le imposte di loro spettanza quali IMU e Tari però il sindaco Matteo Ricci è stato perentorio non applicheremo la norma e non faremo nessun condono è un argomento fuori discussione ha dichiarato il primo cittadino di Pesaro e qua invece vediamo che ci sono delle dichiarazioni da parte dell'onorevole Antonio Baldelli deputato di Fratelli d'Italia il territorio discarica di altre regioni interviene sulla raccolta dei rifiuti sappiamo come la regione ha bocciato il piano dell'ata per quanto riguarda questo grande sistema economico e sociale che riguarda il nostro territorio il deputato di Fratelli d'Italia addita la responsabilità di questo fallimento alla politica che ha governato il territorio ovviamente la debita al centro-sinistra si torni al controllo diretto degli elettori ha dichiarato igiene ambientale trattata dai gestori come principale fonte di redditività è la carenza di una programmazione centrata sulle esigenze del territorio questi sono appunto i problemi che ha evidenziato il deputato insomma più che fare un servizio utile alla popolazione ha detto Baldelli si è cercato di fare reddito per rimpinguare i bilanci questa è un po' la discrepanza tra il dovere e il fare Nuova Darsena arriva il bando ok alle concessioni più ampie posti barca per i diportisti a Pesaro club e associazioni Baiocchi e Biancani soddisfazione bipartisan dunque ora arriva per la Nuova Darsena il bando per i posti barca grande soddisfazione da parte dei diportisti la parte più ampia del porticiolo sarà riservata ai club e alle associazioni il resto ai singoli diportisti in un'ottica di abbattimento dei costi oggi sono in programma rilievi per misurare la profondità del fondale come richiesto dalla Capitaneria di Porto e poi si apre la gara biennale in vista delle stagioni estive di quest'anno 2023 e anche del prossimo anno 2024 si assegnano quinti nei tempi nei tempi utili questi posti barca e si auspica che entro questo mese le concessioni di maniali marittime ai natanti sportivi e del tempo libero della prodo pesarese possano essere appunto espletate vediamo ancora altre notizie che riguardano il Corriere Adriatico la pagina di Urbino una scoperta interessante veramente interessantissima nuove molecole contro il Covid-19 una scoperta scientifica dell'Università Bo pubblicato lo studio svolto con la Sapienza di Roma bloccata la replicazione del virus tramite due bersagli pensate quanto è utile lo studio che sta facendo l'Università di Urbino insieme all'Università della Sapienza di Roma c'è una collaborazione una sinergia tra i due Atenei una sinergia che ha portato alla scoperta di interessanti innovazioni nuove molecole contro SARS Covid-2 importante passo avanti nella ricerca grazie al lavoro del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino Carlo Bo la scoperta scientifica riguarda la sintesi e lo sviluppo di molecole in grado di inibire appunto i virus che danno quelle polmoniti che poi danno la fatica di respirare in certi casi portano anche ad un epilogo funesto lo studio è il frutto della collaborazione appunto tra i due Atenei e i risultati del lavoro ora sono stati recentemente pubblicati e messi a disposizione di tutto l'apparato sanitario mondiale speriamo che anche questo contribuisca alla vittoria contro questo nemico invisibile ma presente ancora oggi nel nostro territorio e a questo punto abbiamo terminato la rassegna del Corriere Adriatico e apriamo invece il giornale il resto del Carlino dove vediamo un artista che ha una sportiva anche artista così come era definita l'assessore allo sport Barbara Brunori nel nostro OTG di ieri sera Federica trionfo fanese a Melbourne da oggi mi impegnerò ancora di più ebbene si tratta di una tennista fanese di 18 anni che ha ottenuto un risultato veramente eclatante a livello mondiale ha trionfato nel doppio femminile degli Australian Open ed è la prima volta addirittura di una italiana quindi pensate che record ha raggiunto ebbene si tratta di Federica Urgesi che in coppia con la slovacca Renata Jamrikova ha conquistato il titolo di campionesse di doppio junior dell'Australian Open 2023 in finale Federica e la sua compagna di doppio hanno battuto le giapponesi Saito e Chinoscita insomma una vittoria veramente eclatante e qui vediamo Federica che dà una intervista a Beatrice Terenzi sul resto del Carlino a fondo pagina il giornale si occupa della partecipazione delle scuole al Carnevale di Fano le vedremo li vedremo anzi i ragazzi partecipare sia al mattino con le sfilate dedicate ai bambini che al pomeriggio quelle più importanti dedicate ai più grandi con grande partecipazione di inventiva di creatività e di fantasia i ragazzi sono sempre molto prossimi a così meravigliare il pubblico e poi vediamo qui invece l'episodio di cronaca che si sta svolgendo in sede giudiziaria per il drammatico incidente della caduta dalla gru e ancora spunta una scritta a sostegno dell'anarchico Cospi Caspito cosa aspetta il comune a cancellarla ebbene la vediamo nel muro del parcheggio dietro alla stazione ferroviaria un angolo nascosto dove ci vanno solo le persone che fanno i pendolari e purtroppo qui c'è stata questa grande scritta e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento domani per quella del giorno dopo e per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera nel Tg Occhio alla Notizia di Fano TV grazie per l'ascolto buona giornata a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci Grazie.